Alle porte di Arezzo a Castiglion Fibocchi è nata da poco la MT Motori. Io sono con Mauro qui accanto che è questo giovane proprietario che è un intenditore di motori perché Mauro viene da un'esperienza passata insomma in mezzo alle auto. Sì, sono dieci anni. Dieci anni di esperienza quindi hai iniziato molto giovane. Cosa è che ti ha appassionato per farti occupare di auto? Quando hai iniziato? Questa è una bella domanda. Ho iniziato per curiosità, per capire se poteva esserci un futuro per me, per la mia passione diciamo in questo ramo qui. Era un ramo che assolutamente non avevo mai preso in considerazione. Io provengo da altre esperienze lavorative però sempre al pubblico. È una passione di tanti. Però devo dire che quello che di voi mi ha colpito, della tua ditta, è questa conduzione familiare. Sì, sì. Prima di tutto siamo in campagna. C'è anche un modo antico di fare affari. Ci si dà la mano, c'è una parola. È molto diverso dalla grande città, dalla grande concessionaria. Sì, sì. Giusto? Sì. Non voglio dire più genuino oppure qualche cosa è differente dove la gente si può fermare anche per prendere un caffè. Dove io mi riconosco meglio. Probabilmente a Milano dalla fretta che hanno comprano per email senza neanche vedere le cose. Noi siamo un po' diversi. Sì, diversi. Quindi tu praticamente ti occupi di compravendite di automobili. Sì, compravendite di automobili. Vendo sia automobili nuove che automobili usate. Faccio un qualche cosa o almeno tento di fare un qualche cosa che non tutti fanno o propongono. Quindi è la conto vendita, conto esposizione. Questa è la cosa interessante. Vi faccio un esempio. Se io ho una Mercedes che in questo momento non uso, vengo qui da lui, dalla MT Motori, e gli dico me la vendi questa auto? E lui potrebbe essere, potreste anche essere direttamente interessato a comprare. Perché no, certo. Come puoi metterla nel tuo piazzale? Esatto. Noi abbiamo una splendida vetrina lungo la Sette Ponti. È interessante perché, dal mio punto di vista perlomeno, se avessi un'automobile che non utilizzo e a cui voglio dare un giusto valore e appunto lo voglio vendere, c'è un professionista, in questo caso io, nel settore da tanti anni che sa innanzitutto collocare l'automobile, quindi un valore vero, perché purtroppo molto spesso ci affidiamo o a dei giornali specializzati o a internet che oggi impera... E poi chi passa può comprare un'auto, può fare una permuta, cosa che tra privati non si può fare, perché è giusto. Direi di no, mettiamo conto, tu Leonardo c'hai una macchina molto bella e anche molto costosa, la vuoi vendere, arriva la persona che la vorrebbe acquistare... Però c'è una macchina indietro che a me non interessa e può interessare a te. La posso addirittura finanziare la tua automobile, quindi venderla a una terza persona anche in modo più semplice di quello che potresti fare te. L'argomento... Si fa interessante, Mauro, per il semplice fatto che tu hai anche le moto e in questo caso hai una particolarità, quale? Sì, io sono, diciamo, esclusivista per Arezzo e provincia del marchio Yosung ed Ailin. Yosung è un marchio coreano, giusto? Sì, sono entrambi, sia Yosung che Dailin sono due marchi coreani, magari hanno una fetta di mercato in Italia non propriamente importante, però sono dei prodotti interessanti per due motivi, il rapporto prezzo-qualità in primis e in secondo comunque utilizzano motori giapponesi molto affidabili, molto conosciuti. Quindi ci sono dei custom molto carini, per esempio nel caso di Yosung, che hanno anche un prezzo veramente abbordabile. Anche in questo caso ovviamente vale il discorso della compravendita, dello scambio, quindi se uno ha una moto pur non volendola comprare, te la può portare. Ancora maggior ragione, la moto essendo un oggetto prettamente, prevalentemente stagionale, è più semplice che io magari utilizzo una moto per quello che voglio utilizzarla, poi arrivo a fine stagione, settembre, ottobre, la devo mettere in garage, sì, coperta, tutto quello che vuoi, ma non sai che faccio? Quasi quasi la vendo l'anno prossimo, mi compro il modello nuovo, invece di inserzionarla in giornali, in riviste specialistiche o anche in internet, perché è importantissimo, però è sempre più importante secondo me toccare e vivere, anche perché la moto è qualcosa di differente, l'automobile serve a tutti tutti i giorni, la moto ci deve entrare in empatia. È uno spizio molto più personale, anche scooter c'è, giusto? Anche scooter di tutte le cilindrate, appunto la Delim in questo caso è un'azienda che produce ottimi scooter a dei prezzi onestamente irrisori, e ci sono un po' di tutte le cilindrate, in questo caso ho dei 50 a due tempi, ma c'ho anche i 200, 250. Tanto per intenderci Mauro, hai auto nuove usate di marca di tutte le marche, tanto per riassumere, giusto? Finanziamenti, hai un'assistenza tua con la quale sei in collegamento, sia come carrozzeria che come meccanico. Sì, sia per le auto che per le moto. Io ve l'ho presentato, non vi resta che venire a conoscerlo perché è una persona veramente squisita. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.